Vi incoraggio a proseguire su questa strada, che tutti, tutti insieme, ciascuno coltevando la propria spiritualità e praticando la propria religione, possiamo camminare alla ricerca di Dio e contribuire a costruire società aperte, fondate sul rispetto reciproco e sull'amore vicendevole, capaci di isolare le rigidità, i fondamentalismi, gli estremismi, che sono sempre pericolosi e mai giustificabili. Assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche, crisi che minacciano il futuro dell'umanità, in particolare le guerre e i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiosa. Ma anche la crisi ambientale, diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario è importante che i valori comuni, i valori comuni a tutte le tradizioni religiose, siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza e a promuovere la riconciliazione e la pace.